Barbara Paci ha lasciato il Consiglio Comunale di Viareggio. L'ex candidata sindaco del centrodestra alle amministrative del 2020 si è dimessa non solo dal seggio ma anche dall'incarico di dirigente cultura e innovazione nazionale di Fratelli d'Italia. Motivi professionali essenzialmente alla base della decisione della gallerista storica dell'arte che visti i crescenti impegni lavorativi sia in Italia che all'estero tornerà a dedicarsi completamente alla carriera. Il passo indietro di Paci cambia anche gli equilibri nella minoranza di centrodestra. Fratelli d'Italia perde un consigliere e scende a due mentre la Lega ne guadagna uno. Il quinto in base ai meccanismi elettorali entrerà infatti Barbara Canova in quota carroccio. Sui banchi del Consiglio intanto va in scena l'ennesimo scontro fra il sindaco del Ghingaro e il PD schierato all'opposizione dopo lo strappo di due anni fa seguito alla rimozione dell'ex assessora Maineri formalmente ancora seduto nelle file della maggioranza. Il primo cittadino ribadisce di non aver chiuso con il partito democratico regionale e nazionale bensì con i suoi rappresentanti eletti in Consiglio a Viereggio che invita a sedersi dalla parte delle minoranze accanto al centrodestra per non lasciare più spazio ad ambiguità. Ma a proposito di ambiguità i Dem replicano chiedendo di chiarire la posizione del consigliere Luigi Troiso eletto nella minoranza. Ha votato anche il bilancio perché si chiede il PD non entra formalmente nella maggioranza?